Micalizzi alla batteria Si appropinqua munito di uno strumento acustico, una batteria portatile che si chiama Cocktail Drum Cocktail, presumo perché si suona solamente dalle 7 alle 8 di sera Mi ha appena accompagnato nel brano Edera che avete appena ascoltato il maestro Clemente Ferrari alla Fisarmonica Maestro, certo Quello maestro lo chiamo maestro perché da quando ha fatto il videoclip della vita con me in mutande nessuno lo chiama più maestro Un giorno ero un maestro rispettato Adesso Li ho presi alla sprovvista perché è stato un momento Mettiamoci tutti in mutande e facciamo il video Vabbè vai facciamolo 25 milioni di visualizzazioni Un altro membro in mutande è il professor Giorgio Baldi alla chitarra Adesso provate a immaginarli tutti in mutande Aspetto per drammatizzare un po' il momento Un altro mutandone Il professor Dedo alla chitarra classica Bene come avrete intuito siamo per eseguire alcuni brani in versione acustica E qui funziona tutto? Sì? 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 Sì?